Musica Mancano oltre 2000 medici nei pronto soccorso italiani, numero destinato a raddoppiare entro il 2025. Per far fronte all'emergenza sanitaria, sempre più strutture fanno ricorso a medici libero professionisti a partita IVA, chiamati per svolgere turni in strutture sempre diverse. Sono dottori che hanno accumulato anni di esperienza nell'area emergenza-urgenza, ma che non possono accedere ai concorsi per la stabilizzazione perché non sono specialisti. Come spiega il segretario del sindacato ANAO, Carlo Palermo, non esiste un censimento nazionale, ma il numero di medici a partita IVA sta crescendo molto negli ultimi anni, perché rivolgendosi a loro le aziende sanitarie aggirano il blocco delle assunzioni. È ufficialmente scattato da giovedì 7 novembre l'obbligo di munire le proprie automobili con i dispositivi di allarme per i seggiolini dei bambini. A ricordare l'entrata in vigore obbligatoria dei cosiddetti dispositivi antiabbandono, è il Ministero dei Trasporti. Chi non si doterà dei dispositivi in questione rischia una multa da 81 a 326 euro in aggiunta alla decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. Per agevolare l'acquisto nel decreto di legge fiscale è stato istituito un fondo che prevede un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. I dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo. Integrazione e solidarietà, questo il messaggio lanciato da Papa Francesco in occasione dell'udienza generale in Vaticano. Anche noi oggi, allo Spirito Santo, di insegnarsi a costruire ponti con la cultura, con chi non crede o con chi ha un credo diverso al nostro. Sempre costruire ponti, sempre la manotessa, niente aggressione. Chiediamogli la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede, ponendo su quanti sono nell'ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo. Artigianale oppure no, il panettone nel nostro paese è una vera e propria mania alla quale è difficile rinunciare. Ogni anno se ne vendono circa 29 tonnellate per un introito totale di 217 milioni di euro. A consumarlo sono oltre 12 milioni di famiglie. L'80% dei panettoni viene distribuito tramite i canali della grande distribuzione. Sono i numeri che emergono dalla ricerca Il Panettone in Italia, Shopper Understanding e opportunità di mercato tra artigianale e industriale, realizzata da CSM e Bakery Solutions in collaborazione con Nielsen, dai quali si evidenzia come il panettone sia un dolce per tutti. Gli over 50 preferiscono la ricetta industriale, mentre i più giovani solitamente optano per quello artigianale. Per quest'ultimo, in media, si spende poco più di 20 euro al chilo, circa 4 volte di più rispetto a quello della grande distribuzione. Grazie a tutti.